Oggi è il 20 ottobre 2013. Cominciamo ovviamente con l'appuntamento dedicato all'oroscopo e partiamo dalla riete. Domenica frizzante, ma state attenti a non dover pagare un prezzo troppo alto. Nulla è più importante del benessere e della serenità. Toro, vi accorgerete di essere favoriti dalla buona sorte come se aveste il vento nelle vele e oggi sarà proprio così. Gemelli, le parole chiave da usare in questa domenica dovrebbero essere calma e pazienza. Cancro, vi attende un giorno superlativo. Se amate le emozioni forti avrete pane per i vostri denti. Leone, non aspettatevi di ottenere successo solo con il fascino, ma cercate di munirvi anche di argomenti validi e convincenti. Vergine, giorno ideale per mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere. Con le stelle a vostro favore siete più sereni e pronti per iniziare una nuova fase di vita. Bilancia, per qualcuno l'entusiasmo per una nuova storia sentimentale salirà alle stelle. Scorpione, l'energia non vi manca, ma oggi avete poca voglia di impegnarvi. Sagittario, cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Capricorno, siete sereni e pieni di energia, tutto procede a meraviglia. Acquario, se navigate nell'incertezza questa domenica vi offrirà il tempo e le circostanze adatte per fare chiarezza in una questione familiare. Pesci, concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo. Ed è tutto per questo appuntamento dedicato all'oroscopo, ma vi aspetto domani ovviamente alla stessa ora. Grazie a tutti.